Vengo a Italia per mangiare pizza, pasta e per guardare a bella Italia, bella ragazzi. Ciao Italia! Ezra, hai mangiato la pizza, la pasta? Hai visto dei bei ragazzi? Tutti! Tutti! Sì, come dicevo, amo molto l'Italia. Ho studiato per quattro anni nel canton Ticino, in Svizzera. Non ho imparato l'italiano, ma avevo un fidanzato. Italiano moroso, un amore, siciliano. E quindi ho imparato con lui l'italiano. È sempre così, se hai un fidanzato impari meglio la lingua. È vero. Confermimi lì che si impara meglio la lingua, più velocemente. Sì, è vero, ha ragione. Lei ha ragione. Anche tu sei stata in Italia a studiare? Sì, sono stata a Roma per due anni, quindi capisco tutto. Ma quando parlo, io parlo piano, piano, piano. Quindi preferisco parlare in turco o in inglese, non so. Comunque l'italiano... Ma voglio dire che vi voglio tanto, tanto bene. Che dolce!